Gli apostoli non erano certo abituati a trattare con una persona risuscitata dai morti, era il primo caso e anche l'ultimo, per cui venne immediato il dubbio, ma sarà lui o sarà un fantasma. Ed ecco che Gesù prontamente appare a porte chiuse nel cenacolo e gli spiega che non è un fantasma. Si fa toccare, toccatemi, guardatemi, e poi addirittura chiede qualcosa da mangiare e si mette a mangiare davanti a loro. I fantasmi non mangiano, io sono vero, sono io. E poi aprì loro la mente per comprendere le scritture. Che cosa compresero? Che tutta la scrittura parlava di lui. Ecco, la Chiesa ha ricevuto lo Spirito Santo per capire che tutto parla di Cristo. E Cristo non è un fantasma, Cristo è vivo, Cristo è presente e abbiamo ricevuto lo Spirito che ci suggerisce dove riconoscerlo, dove incontrarlo. Buona avventura in questa ricerca. Buona Pasqua.